Il basket biellese si è disunito. Gli ultimi tre mesi hanno allargato definitivamente le distanze tra tu, tra le varie società e i tifosi. Gli ultras di pallacanestro Biella, che nelle ultime settimane si sono scagliati con viva forza contro Biella Next, continuano a far sentire la propria voce. Un altro comunicato che inizia con siamo ancora qua, esattamente le stesse parole usate da Biella dopo la salvezza a fine aprile. Continuiamo a chiederci, scrivono, chi c'è in Biella Next? Lo chiediamo perché ancora non l'abbiamo capito. Lo chiediamo perché leggendo la nota della società, Biella Next viene definita società satellite di pallacanestro Biella, quindi con una propria struttura. I tifosi puntano il dito, convinti che siano state tolte risorse alla società originale. Nessuno ci toglierà dalla testa, si legge ancora, che Biella Next sia stata fatta per prendere la parte buona di pallacanestro Biella, mentre quella restante, termine edulcorato, è stata lasciata in pancia alla vecchia società. Si parla di allenatori, foresteria, ma con quali soldi? Soldi che prenderete dai premi di pallacanestro Biella, non di Biella Next. Questa l'accusa dei tifosi. Avete venduto il nostro titolo, avete calpestato 28 anni di storia, non avete neanche avuto il coraggio di presentarvi a ben due conferenze stampa. Avete insultato i tifosi di tutte le età che per decenni sono stati il primo sponsor, quando voi eravate a fare la settimana bianca o al mare alle Maldive. Non avete fatto neanche un comunicato sulla vendita del titolo, quando da metà giugno avevate l'accordo in mano e aspettavate solo di sistemare il vostro orticello. Vi lasciamo con un'ultima domanda. Quanto pagherà Biella Next a pallacanestro Biella di parametri per l'utilizzo dei giocatori? Il comunicato, ben più acceso dei toni di quanto si possa riportare, si conclude con un augurio ai ragazzi che giocheranno a basket e che parteciperanno i campionati giovanili, ma anche con un ironico in bocca al lupo ai loro genitori che dovranno confrontarsi con questa dirigenza. Insomma, la situazione è veramente triste e tesa. La città del basket sembrerebbe veramente non esistere più.